La musica di Rockset dunque per cominciare la giornata di oggi. Allora, oggi poteste sentire delle cose strane per due ragioni, perché abbiamo cambiato tutto il sistema con cui noi gestiamo, insomma, i programmi di Radio Number One, ma soprattutto, insomma, per la ragione che, insomma, c'è anche Fiona che è appena arrivata dall'Aldiline in questo momento. Ciao Fiona, buongiorno. Buongiorno, senti che bella voce, sono venuta qua a portarti un sacco di germi. Allora, sento che sei veramente informissima, tra l'altro ho usato anche questa sonorità che stiamo ascoltando in questo momento, perché praticamente Fiona è arrivata dal suo mondo dei videogames ed è entrata nella nostra vita di persone normali, invece. Con quale videogame hai giocato mentre lì è malata? No, io volevo chiederti, quali persone normali? Ah, ok, perfetto. Quelle che dovrebbero essere qui con noi questa mattina, 9.13, ciao a tutti, buongiorno. You run the run con The Reflex questa mattina qui su Radio Number One. Allora, abbiamo detto buongiorno a tutti. Il lunedì è il giorno in cui arriva in studio anche Fiona, che non è in giro per il mondo, la principessa della tecnologia. Oh, sei un fastidio pazzesco, te lo dico. Perché sto tossendo. No, no, non perché stai tossendo, assolutamente, sia un fastidio pazzesco perché è sempre lì con il telefonino in mano, le robe, foto, video, robe, Instagram, Snapchat, basta! Devo documentare io cosa accade qua dentro. È vero. Questo che non sono qua dentro, le persone almeno possono vedere cosa accade. Allora, in effetti, insomma, trovate su Instagram le stories, che sono quei video e quelle foto che si cancellano entro la mezzanotte, poi ci sono le foto su Facebook, le cose su Twitter, ma anche quello che vi raccontiamo noi alla radio ogni mattina. Oggi, allora, tantissime storie da raccontare. In questo lunedì stavamo facendo la cronaca di quello che ha vissuto Fiona nei giorni scorsi, cioè che è capitato, credo, anche a molti di voi, la malattia, no? Sei stata malata per qualche giorno. Che tristezza, sì, però ho giocato ai videogiochi, praticamente, ne ho approfittato per andare avanti. Allora, una scusa, praticamente, perché che gioco hai utilizzato per curiosità? Ma guarda, io sono molto appassionato ai Final Fantasy e quindi ne ho approfittato per terminare il quindicesimo capitolo, che mi ha appassionato parecchio. Quindicesimo? Sì, e ormai sono milioni di anni che esiste. Allora, se siete giocatori di Final Fantasy e avete una compagna di merende qui questa mattina, allora, tra una merenda e l'altra, tra una fantasia e l'altra abbiamo anche la musica. Adesso è quella di Eagle Eye Cherry, si chiama Save Tonight. La musica di Alastasia su Radio Number One. Io ero qua che pensavo ai fatti miei questa mattina, ma soprattutto alle tante cose che vi dobbiamo raccontare questo lunedì. Però, però, prima di raccontare quello che, insomma, accadrà nel resto della settimana, dobbiamo tornare indietro nel weekend. Ma hai sentito di questo delirio in Inghilterra per la patata? Sì, la crisi della patata. L'ho sentita, l'ho sentita. Ed è una roba triste, tristissima. Allora, la crisi della patata è venuta dal fatto che in Inghilterra è scoppiato il putiferio perché qualcuno ha pubblicato in questo fine settimana online la notizia secondo cui le patate arrosto non vanno mai fatte bruciare perché a quel punto potrebbero diventare cancerogene. Cioè, questa è una cosa che, insomma, la patata arrosto della domenica è una parte fondamentale della vita dell'uomo. Bisogna fare il corso su come arrostire la patata, lo sai, vero? Lo so e so che non vorrei qui, Gran Benson, per sentire le tue parole. Però, insomma, a quanto pare è stata smentita, non è così pericolosa. Ho terminato la nostra prima ora insieme qui su Radio Number One con A. Kelly Sher, my love. Scusi, lei è esperta di condivisioni e parlo con Fiona che è qui con me oggi. Quando un uomo dice I want to share my love with you, vuol dire che vuol far sapere agli altri che ama una o vuole fare l'amore con lei? Secondo me vuole fare all'amore. Eh, è un modo moderno, è un modo social di chiedere. Insomma, segniamo, mettiamo da parte, che lo sa, magari può servire nel futuro. Alle dieci e un minuto siamo pronti a collegarci con la nostra amministrazione, sentiamo un po' cosa succede in giro per il mondo. Avresti visto forse nel corso di questo fine settimana la protesta delle donne, The Women March, in quel di Washington. Anche tu hai marciato in quanto femmina. Ma che, che, io non c'avevo tempo, dovevo giocare videogiochi, scusa, eh, anche tu, che domande fai? Ma scusa, cioè, voglio dire, una donna che, le donne serie hanno giocato, scusate, hanno giocato, sì, hanno combattuto gli stereotipi maschili nel corso di questo fine settimana. Ah, insomma, hai visto, tu hai battuto gli uomini a Final Fantasy. Sì, però, a proposito di stereotipi, è successa anche un'altra cosa un po' particolare in Cile, Luca, non so se ti sei informato. Ci sono questi omoni che si mettono a fare la maglia. Per combattere, per l'appunto, gli stereotipi. Allora, una volta al mese si trovano in piazza tutti insieme con tanto di ferretti, insomma, per fare la maglia. Per, insomma, lo vogliamo fare anche noi per combattere lo stereotipo che sia una cosa da femmine. Ci provo, ma io faccio punto e croce. Dammi bella notizia, dammi idea divertente per questa mattinata. Dai, dimmi qualcosa di simpatico. Allora, se hai un compleanno che si sta avvicinando, ti do un'idea regalo di quelle che farei un figurone. Cioè, si tratta di un sapone scaccia fantasmi. No, che scaccia fantasmi? Che cosa contiene il sapone scaccia fantasmi? Contiene un po' d'aglio, quindi una fragranza così deliziosa. In aggiunta c'è anche un po' di acqua santa. Allora, un saponetto a base di aglio e acqua santa. Chi non lo vorrebbe? Chi non lo vorrebbe? Io voglio vedere la faccia di coloro a cui lo regalerete. Sarà sicuramente bella. Questo brano viene considerato una grande dichiarazione d'amore, ma io vi dico che assolutamente non è così. Cioè, assolutamente no, io mi oppongo a questa informazione perché, secondo me, I'll go wherever you will go in realtà è la canzone dello stalker. Perché, insomma, uno che dice io vado esattamente dovunque tu vada a me fa venire un po' di ansia. Allora, intanto siamo arrivati alle 10.31. Buongiorno a voi. Questa è Radio Number One. Io sono Luca. Con me c'è anche Fiora. Dai, Fiora, porta notizia divertente. Porta cosa carina. Allora, ti porto qualcosa dal sollevante, dal Giappone, dal lontano Giappone. È successo che praticamente sui bus hanno installato le stazioni di ricarica per gli smartphone, per incentivare i giovani a usare gli autobus. Perché devi sapere che in Giappone tutti usano la metropolitana e i treni. I bambini non sognano le auto, ma sognano i treni. Non lo so, sono civili perché vengono indottrinati già da piccoli. Però una cosa particolare è che tu in Giappone non puoi avere la macchina se non puoi dimostrare di avere un parcheggio. Quindi per forza devi andare in giro con i mezzi. Se lo facessero da noi ci sarebbero praticamente 153 persone che dichiarano di avere lo stesso garage. Ma insomma, però carino. Allora, novità dunque. Vedremo se funzionerà il fatto di, insomma, convincere i giovani a prendere l'autobus anziché la metropolitana che è un po' carica semplicemente proponendo di ricaricare il telefonino. Se fanno un telefonino con la batteria grande sono fregati. Fregatissimi. Buona giornata a voi che invece oggi avete preso uno dei treni italiani che si carica batteria. Ce l'avete preso. Sera in orario. Sera in orario, ciao. La musica di Hong Kong Syndicate su Radio Number One con questa che si chiama Too Much. Buona giornata ancora. Noi siamo Luca e Fiona, stiamo inseguendo in giro per il mondo tutte le curiosità che riusciamo a trovare che arrivino da ogni angolo del pianeta davvero. Credo rimaniamo in Giappone, dico bene? Sì, scusa, mi sto ridendo perché è una roba troppo assurda. Praticamente un impiegato di un parco nazionale a Tokyo ha fatto entrare gratis 160.000 visitatori stranieri perché era spaventato da loro. Beh, anch'io se fossi giapponese mi spaventerei un po' vedendo gli occidentali che non stanno mai in fila, che spingono. Però 160.000 sono tanti. Allora, il costo non era tantissimo, era più o meno di 1,50 euro di ingresso però moltiplicano per 160.000 lui quando li vedeva arrivare diceva che non parlava inglese li sentiva un po' così esagitati e lui si spaventava, cucciolino, stellina. Anche perché poi noi gesticoliamo molto noi occidentali i giapponesi invece risultano un po' aggressivi. Sono molto così. Ma che tenero! Insomma, come si chiama il parco nazionale in giapponese ovviamente? Aspetta, Shinjuku Gyoen National Park. Ah, ok. Forse se io dicessi quel nome lì in giapponese risulterei molto aggressivo. Capisco, insomma, che il custode abbia molto paura di me. Ah, che dolce. Adesso cosa deve fare? Nello pieno spirito giapponese dovrà ridare tutti i soldi, immagino. No, secondo me farà karakiri. Ah, più o meno. In giapponesi c'è seppoco tra l'altro. Io sono Luca, con me c'è anche Fiona in questa mattinata. Buongiorno. Tanti temi di oggi, giusto, che abbiamo già affrontato. Ne abbiamo altri ancora in... Abbiamo parlato di un sacco di robe di cui non ci interessa niente. Ma quello non ci interessa niente? No, no, niente. In Giappone, gli autobus... No, no, domani è una roba dove la gente, i videogiocatori si chiuderanno in casa perché esce il Resident Evil 7. Ah, però, 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 questa sì che è una notizia una pazzesca. E che dal 96 fa... Parla sotto. Fa parla sotto. Fa parla sotto mi sembra perfetto. Ma io sono di Albania, ogni tanto mi perdo. Fa parla sotto a tutti i videogiocatori del mondo e da quest'anno, per la prima volta, si può giocare con la realtà virtuale su PlayStation VR e ti assicuro che è una roba terrificante perché l'ho provato di persona e inquietante. Allora, fammi capire un attimo, la tua vita era questo weekend Final Fantasy, non so in quale versione, e domani invece arriva Resident Evil, dico bene? Esatto, esattamente. Meraviglioso, insomma, sono veramente colpito. Non sono amica tech princess per niente. No, no, certo, ci mancherebbe, però sono assolutamente colpito, insomma, da questa cosa, insomma, da questa profondità delle attività, guarda, veramente stupito. Ma allora, buona giornata a voi, giocatori di Resident Evil, ma anche a voi che non lo siete, ma allora, noi uniamo questi due mondi tra i giocatori e quelli che non lo sono con la prossima canzone. Questa anche, credo, nel 96-97 c'era anche lei già da un bel po', tra l'altro. Erano elementari sempre nel 96, ve lo ricordatelo. Ieri Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, allora, Luca e Fiona qui su Radio Number One, Fiona che ci parla solo di videogames, cioè ormai solo quello, ma l'unico tema nella vita che è rappresentato da quello, mi pare, no? Non è vero, oggi sottovaluti questa questione, soprattutto perché sono convinta che un sacco di persone lì fuori videogiochino. Eh, 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 non lo sapremo mai, o forse sì, forse sì. Ma certo, possono dirci, per esempio, qual è l'ultimo gioco a cui hanno giocato, mandandoci un tweet su at Radio Number One, oppure mandandoci un fantastico Whatsapp al numero 393-444-0444. Allora, la domanda è molto semplice, cioè, videogiocate o no? E se sì, qual è l'ultimo videogioco con cui avete giocato? Vale Pong del 1980? Per te vale anche Pong, ma valgono anche i giochi mobile. Vediamo cosa giocate. Quindi quelli sul telefonino, quindi Candy Crush, quelle cose lì, ma che fanno perdere un sacco... Perché la mia mamma ci gioca, Candy Crush. Ah, quindi è una roba per anziani, allora va bene, ok, allora che cosa giocate? 393-444-0444. Mi state scrivendo un sacco di messaggi raccontando a quali giochi giocate a casa, sul telefonino, ma prima abbiamo citato la mamma di Fiona, insomma, dandole un po' dell'anziana. E se l'è presa? Oh, allora, voi di number one, a chi li dite vecchia? Una che fa lezione, io voglio vedere tutti se fanno come me, a 58 anni lezione e anche altre cose come se fosse un giovinetto. Ciao, ciao, baci a tutti. Non lo faremo mai più, chiedo scusa signora, chiediamo perdono, abbiamo già il capo cosparso di cenere. Abbiamo ritrovato James Blunt con questa You're Beautiful, con Luca e Fiona questa mattina, ma se Masculo ti dedica questa canzone che dice You're Beautiful, sei bella? Tendenzialmente sarei super contenta, ma se me lo dice oggi gli dirò prima un calcio rotante e poi gli dico ma va 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 va, oggi sono come un fiore morto da dieci giorni. Esagerata, senti fiore morto, ma qui vedo che sono arrivati un sacco di messaggi riguardo ai videogiochi, allora vi devo piegare l'evidenza. Siete un popolo di videogiocatori, cioè con la televisione, il computer, la console, il telefonino, insomma ognuno di voi ha espresso qualche parere. Allora vedo Call of Duty come gioco, The Last of Us. Bellissimo, tante tante lacrime. Last of Us, quindi devo dire. Poi c'è chi dice addirittura mio marito sostiene che io sia una ludopatica, molti di voi... Perché gioca tra una pulizia e l'altra. È vero, tra l'altro a molti di voi Pokémon Go, devo dire che Pokémon Go comunque funziona, ma poi ci avete indicato veramente un sacco di titoli. Vedo anche su Twitter, Chioccio la Radio Number One, Metal Gear Solid, vedo un attimo Final Fantasy XV. Vedi Final Fantasy XV, non sono l'unica. No, insomma, quindi siete in tanti davvero ad utilizzare un sacco di giochi su vari console. C'è scritto Fantastica Fiona su Twitter, io te lo ricordo. Eh, vabbè, Fantastica Fiona era così arrivato, in quanto popolo dei videogames, il tuo partito. Invece fantastici sono anche loro, si chiamano The Journalistive, sono ragazzi italiani molto molto bravi, ne parliamo spesso completamente. Giochi e pensare a qualcos'altro? Ci dobbiamo proprio. Allora, di che cosa vuoi parlare tra poco? Anticipiamo più o meno il tema così l'universo. Eh, di quelli che sono malauguratamente fidanzati e che si devono preparare a San Valentino. Allora, lo facciamo tra poco, se state preparando San Valentino abbiamo qualche dritta per voi importante, adesso abbiamo qualche dritta che riguarda il benessere. C'è Federica Fontana. Ma che meraviglia, questa è Never Let Me Go di Tresor. Io ve lo dico tutte le volte che l'ascoltiamo, ma quando sento questa canzone non posso pensare ad altro che alle vacanze. Ma no, che meraviglia. Però, prima delle vacanze credo che ci sarà un'altra scadenza ormai vicina, visto che siamo al 23 di gennaio, San Valentino. Esattamente, che brutta roba. Ma vuoi brutta roba? Ma c'è chi ama questa tradizione, che ama, che la vuole festeggiare, perché no, insomma. Allora, cosa abbiamo da dire per San Valentino? Pare che questo sia il momento migliore per acquistare le rose per il vostro amato. No, per la vostra amata, perché non si regalano i fiori e gli uomini. Sì, ma volendo, insomma, usciamo dagli schemi. Dovrebbero costare meno in questo periodo. La domanda è, le compri adesso e le prendi subito? No, le prenoti adesso, perché c'è un meccanismo in pratica. Se tu prenoti i fiori in anticipo, acquistandoli oggi, prenotandoli per il 14, c'è un meccanismo che funziona un po' come i biglietti aeree. E quindi più la richiesta, più aumenta il prezzo. Allora, questo è il momento in cui, prenotando, avrete il prezzo migliore assicurato. Pensa che io ero lì a pensare, a cercare di capire come conservarle per il 14. Ah no, dai, c'è una cosa che si chiama smartphone, tu trovi quei servizi per cui prenoti tutto, qualunque cosa, prenoti anche i fiori per San Valentino. Io non le conosco queste cose. Ok, sappiate insomma che dovete prenotare oggi per quella data là. Buon San Valentino a tutti, anche a Enza e Francie che ci hanno scritto in questo momento che non ci credono tanto in quella festa lì. Pochi minuti ormai a mezzogiorno, quando arriverà Patrizio nella giornata di oggi, poi alle 15, troverete invece Liliana, ma io vi devo invece segnalare una cosa importante, lo dico anche a te, che sei in questo momento in mia compagnia. Cara Fiona, sai che... Dov'è paura? Guarda, secondo me dovresti un pelino avere paura. Sai che è stata scoperta una cosa straordinaria, cioè la ragione per cui molte donne sono leggermente nervose. Tipo così, che graffiano. Una roba che graffiano, no? Che sono sempre un pochettino aggressive. A volte magari alcune tendono un po' al nervosismo che però è un po' depresso. Allora, sembra che non sia colpa delle donne, quindi uomini all'ascolto, sentite bene, pare che possa essere colpa di un parassita del gatto. Cioè... Incredibile. Incredibile, ovviamente. Non è che è una fregnaccia, no? No, 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 giuro, giuro, giuro. C'è uno studio fatto per anni e anni e anni e si è scoperto che alcune donne con una particolare tendenza alla depressione, con una forte aggressività, insomma, c'era essenzialmente questo parassita del gatto nel sangue che, insomma, le contaminava e generava questo stato delle cose. Quindi, insomma, se vostra moglie o la vostra fidanzata è particolarmente... Fate sparire il gatto. Ma, beh, ecco. Trattandolo bene, accarezzandolo. Risa con Si vola per chiudere l'appuntamento di oggi. Non si vola, tra l'altro, negli Stati Uniti, dove ieri per la terza volta nel giro di pochi mesi un problema in computer ha messo a terra tutti gli aeri della United Islands. Pensa a te la tecnologia quando ti fa... Cosa succede? Cosa succede? Allora, noi abbiamo terminato per la giornata di oggi. Tu cosa vai? Vai a giocare... Andiamo a mangiare! Ah, giocare e mangiare, queste sono le priorità. Sono una donna primitiva. Allora, noi ci ritroviamo nei prossimi giorni qui su Radio Number One. Tra poco Patrizio, alle 15, arriva Liliana. Intanto un buon lunedì a voi. Andiamo a sentire le ultime notizie dalla nostra redazione. Ciao Fiona! Ciao Luca! Ciao a tutti! Ci troviamo nei prossimi giorni. Noi partiamo domani a partire dalle 9. Intanto, news 12 in punto! Noi partiamo domani a partire dalle 9.